E' già stata definita fase 2 del progetto Argo Cassiopea, il max investimento sul gas che ne inseri nel protocollo d'intesa del 2014. I sindacati chiedono che si acceleri per arrivare all'avvio vero e proprio dei cantieri a Palazzo di Città. Ieri si è tenuta la conferenza di servizi proprio per valutare il progetto della fase 2 concentrato sulle opere a terra. I tecnici del municipio e il servizio SUAP coordinato dal dirigente Emanuele Tuccio devono rilasciare l'autorizzazione per la base destinata al trattamento e alla compressione del gas che sarà poi immesso nella rete nazionale di SNAM. Attività previste principalmente nelle aree dell'isola 27 e dell'isola 30 della raffineria di Contrada Piana del Signore. La pipeline di collegamento tra i giacimenti e l'area onshore seguirà il percorso di quella ormai in disuso che in passato fu collocata per la connessione con il distalatore. Il dirigente Emanuele Tuccio parla di un clima di collaborazione. Il provvedimento autorizzativo potrebbe essere rilasciato a breve. Servono solo delle integrazioni che l'azienda farà avere al comune. Saranno presentate osservazioni anche dalla riserva biviere. Emilio Giudice, responsabile della riserva, ha posto la questione di una delle aree SNAM già sottoposta a sequestro. Vincolo giudiziario che però è stato superato, come hanno indicato i funzionari di Enime e dei tecnici che hanno seguito la progettazione di Argo Cassiopea. Lo stesso giudice ritiene importante che si dia effettivamente seguito alle prescrizioni lo scorso anno confluite nel primo provvedimento autorizzativo che sbloccò la fase preliminare. Nei mesi successivi è poi stata conclusa l'intesa tra la Regione e il Ministero ed è stata sbloccata l'autorizzazione per gli interventi sul fronte mare. L'attuale immagine della geopolitica mondiale del tutto rivisitata dal conflitto in Ucraina ha indotto il Governo nazionale a porre notevole attenzione sull'investimento per il gas di Eni. La necessità di incrementare le fonti di approvvigionamento energetico passa anche dal gas che sarà estratto lungo la costa locale. Al termine dell'incontro di ieri è filtrato ottimismo sul rilascio dell'autorizzazione e saranno inoltrate le integrazioni previste. Tuccio spiega che c'è stato un sollecito anche per l'avvio di un confronto sull'attuazione delle prescrizioni già previste nel provvedimento madre dello scorso anno. Quella prima autorizzazione rimane un punto di congiunzione importante che per l'amministrazione comunale può mettere insieme esigenze produttive e tutela ambientale. Il Vice Sindaco Terenziano Di Stefano, che sta seguendo l'iter di Argo Cassiopea rispetto agli adempimenti che toccano al Comune, si dice certo che si potrà chiudere con il provvedimento autorizzativo nell'arco di una decina di giorni. Parla di un progetto strategico che inevitabilmente tocca la città. Lo stesso Di Stefano e il Sindaco Lucio Greco vorrebbero inoltre aprire un secondo fronte per avere il sì alle royalties estrattive che la normativa in materia attribuisce solo alla Regione e allo Stato.